Come vivevate in questa casa? C'era muffa? Sì, parecchia. Qui, sopra qua, fino a dove stava il lampadario, era pieno. Meno male che mio marito ha dovuto dare per forza l'antimuffa. Dentro all'armadio è pieno, che addirittura la mattina finché non viene buio io devo tenere un po' aperto. Altrimenti poi anche per metterci qualcosa addosso li devo mettere prima a lavare e poi lo metto un po' nell'antibagno dove non c'è la muffa. Siamo in un appartamento degli alloggi popolari di Via Funghini ad Arezzo. Qui risiedono 38 famiglie, la maggior parte di essi coppie con figli in tenera età. Il problema della muffa è annoso e mai risolto. Bambini, due bimbi piccoli abbiamo visto. Sì, uno di tre e uno di quattro che dormono nella loro cameretta. Qua è d'inverno, noi dormivamo con la finestra aperta. È un problema che c'è da quando ci abitate? Da quando siamo arrivati c'è questo problema purtroppo. Perché non posso stare così, né io, né i miei figli, né il mio marito. Il mio marito per un po' ha dormito qua da solo e non so come ha fatto, con le finestre aperte. L'ha dato lui un po' di antimuffa, quello che abbiamo potuto fare, ma non è più di questo. Queste le foto di un altro appartamento. Coloro che abitano sotto queste terrazze combattono con la muffa praticamente da sempre. Ho provato a segnalare ad Arezzo Casa il comune? Ho segnalato ad Arezzo Casa, siamo stati la scorsa settimana a parlare anche col Presidente insieme ad un altro inquilino che sta qui. Il Presidente ha detto che c'è un cantiere in atto che dovrebbe sbloccarsi di qui a fine anno. Non sappiamo però, qui la tempistica sarebbe da squarciarla invece che allungarla. Dando la colpa al lockdown vediamo quello che riescono a fare. Le problematiche sono serie, come avete visto c'è problemi di infiltrazioni grosse, più che altro è per quelli che stanno al secondo piano. Insomma la casa e soprattutto la salute è un diritto. Sì, la salute è avanti a tutto, quindi ci sono anche bambini piccoli che stanno qui, la salute è più che altro dei bambini. Io ho saputo di inquilini che hanno imbiancato e comunque il problema si ripresenta. Sì, si diamine perché purtroppo ci saranno delle problematiche che vanno risolte da persone di competenza, non da noi. Lo scorso 29 giugno i condomini si sono riuniti in assemblea e hanno dunque deciso di formare un comitato che avrà il compito di segnalare non solo i problemi legati alla muffa, ma anche quelli legati ad esempio alla mancanza di acqua calda che si verifica periodicamente, piuttosto che la sicurezza dell'immobile, la facciata, scrivono i condomini in una lettera inviata alle autorità, presenta nella struttura in cemento armato ferri scoperti e perdita di calcestruzzo. E poi c'è persino chi non ha un campanello. Ma non ho un campanello, a me se mi succede qualcosa, mi senti male, mi toccò sdrusciarmi per terra per andare a priare al dottore, non sapevano dove stavo. A me qui se mi succede qualcosa a me non mi trova nessuno. Ringraziare, io posso ringraziare perché a me mi hanno aiutato, mi hanno dato la casa nel momento dove io non avevo casa, era un mezzo di una via, e posso ringraziare. Però quello che voglio dire io è che non siamo animali, cioè io pago come tutti, e piacerebbe vivere comunque in una casa adatta, idonea. Qui è tutto neanche idoneo, la muffa a casa, l'acqua, di tutto di più, piatto, le topi. Che cosa chiedete ad Arezzo Casa, ma soprattutto all'assessore alla casa, Tiziana Nesini, che è anche una senatrice della Repubblica, quali sono le vostre richieste? Di vedere, di poter risolvere il problema, prima che, dato che adesso siamo in estate, autunno, ma di non arrivare all'inverno, ripassare in un'altra invernata, come si è passato a questo viaggio, perché insomma le persone che stanno al secondo piano sono in situazioni abbastanza aggravate. Voi avete scritto anche una lettera? Sì, noi abbiamo scritto una lettera, vediamo un attimo, sono una diecina di giorni che l'abbiamo mandata via, vediamo un attimo quando ci risponderanno, chi ci risponderà. Per ora l'unica persona che ci ha ricevuto, ringraziamo tanto, è il signor Oggi, il presidente d'Arezzo Casa. Grazie.